Sono disoccupato, cosa rispondo quando mi chiedono? Ok, non c'è niente di male da non avere un'occupazione in questo momento. Magari siete stati per anni, che ne so, a capo di un qualcosa e in questo momento è un periodo transitorio. E' tutto in come voi dite le cose. In come dite fa tutta la differenza. Quindi dire semplicemente un periodo transitorio della mia vita, sto lavorando in alcuni progetti, tra cui il diventare X o fare Y. Quindi in questo caso non le dici, guarda non ho nessun lavoro. Perché dire non ho nessun lavoro, sì è la verità, ma è posto in una comunicazione che non vi dà valore. No? Poi non è neanche vero, ognuno ha i suoi sogni, ognuno sta inseguendo i propri obiettivi, è giusto che metti luce su questo. Quindi dice al momento ho appena concluso di fare il corso Y, ho appena concluso il lavoro X, l'ho mollato perché voglio concentrarmi al 100% sul mio sogno, che è quello di fare l'astronauta, fare il pompiere, fare eccetera, no? Ok? Questo vi permette di creare un'aura addirittura interessante attorno al non lavoro che state facendo adesso. Ok?